Mocca Osteria, un nuovo locale si affaccia nella parte alta di Frosinone, non un semplice ristorante ma un vero e proprio luogo di incontro aperto dalla mattina per la colazione fino alla sera per il dopo cena. Il nuovo progetto porta la firma di Eugenio Sommo, ciocciaro doc che dopo anni ha deciso di tornare a Frosinone ed iniziare quindi la nuova avventura Mocca Osteria. Tutto questo è partito da un mio progetto di ricevere sia amici e clienti come se fosse una grande famiglia e una casa aperta a tutti. Il concetto di questo locale è di avere una porta aperta per tutti, amici e clienti e sentirsi come a casa propria senza l'obbligo e la necessità di un discorso commerciale. Arredamento particolarissimo con tutti gli oggetti che hanno fatto parte della famiglia Sommo e menù di prima scelta, Mocca Osteria è pronta a conquistare Frosinone. Mocca rappresenta l'accoglienza, la familiarità e un spunto per stare sempre insieme.